Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Clash Royale, ovvero Sabato Royale, perché oggi è sabato. I video di Clash Royale verranno caricati sabato, sabato. Comunque, ho trovato, sono in Arena 2, ho trovato lo scheletro gigante, poi gli scheletrini, lapide, e torre bombardiera, poi è uscita la nuova carta, Tornado, e poi sta uscendo i barbari, i barbari scelti, le due nuove, nuovissime carte, come vedete sono 746 trofei, Adesso ho cambiato clan con un mio amico, i tornei, ancora non sono sbloccati, sì, vabbè, direi di aprirci subito un baule d'argento, oro, arcieri, bomba l'oro e gigante, questa ancora non la possiamo aprire, neanche questa e neanche questa, quindi andiamoci a fare solo una battaglia con il mio tech, giusto ieri hanno aggiunto la Tornado, ma nessuno ormai ce l'ha, un gigante, un po' ho imparato a vigili, visto che sono in Arena 2, ma poi passo anche in Arena 3, ma penso a questo video, lo aggiungiamo in Arena 3, no? 746 trofei, qualche battaglia, Spero che mi capita anche qualche baule, baule magico, da quanto è che, da quanto è, dall'ultimo aggiornamento che la Valkyria diceva che non mi peccano, mostri a chiolo, e lo scherziere, se l'ho fatto battere da un... da un iscritto di blocco, che è facile, ma gli facciamo la tua, e lo scherziere si è fatto battere da un... un giorno mi farò un grande chest opening magari più il più grande di se io ho migliorato il mini pecca andiamo a fargli la torre centrale c'ho un gigante che mi sta mirando ok stiamo impedendo il destino noi ora stiamo rischiando il cavallo è molto facile sconfiggere gli scheletri e con il mini pecca il ruolo 3 che vi faccio danno tanto le bordi non tanto il volito alla mia epica preferita per ora dai che gliela facciamo eh no attacchi devo mettere la strada non ce la facciamo se giochiamo bene se giochiamo bene dai l'apidia dai l'apidia l'apidia dai l'apidia l'apod dai ragazzi ma perché ho questa sfortuna perchè ho questa sfortuna che strazio perchè ho questa sfortuna appena un po' bollo ecco l'ho aperto nonostante voglio voglio io voglio la furia che rende più potenti io voglio il drago infernale voglio lo stregone voglio il cimitero voglio la nuova arena lo staranno per mettere che noia perchè devo sempre morire facciamo un'altra battaglia questa volta non devo morire eh se non chiuso la serie come on come on let's go let's go let's go vai mini pecca uccidi vabbè la uccisa il drago usiamo questo questo odio i goblin avanti che facciamo la torre quanto odio i goblin non male che li ho sfruttati dai che gli faccio la torre dai ci deve essere sempre stavalti ma chi è che l'ha inventata però noi facciamo la torre dai che questa la vinciamo dai che questa la vinciamo non mi preoccupo per gli scheletrini visto che e vai già due torri abbiamo stravinto sempre se gli scheletrini non siano più veloci non so se vi ricaricherò dal computer quando capirò come funziona e come registrare lo schermo e non mi consigliate nei commenti perché sono sul punto di trovarlo con bluestacks dove ho trovato clash royale se noi ho dato neanche il tempo di spawnare e già glielo ho eliminato e gli facciamo la torre centrale e muoiono tutti vuoi un trofeo grosso vabbè anche se mi aspettavo di più perfetto abbiamo superato la metà dei tirfei io direi di vederci al prossimo episodio e datemi una buona fortuna di arrivare in arena 3 poi in arena 4 e magari datemi una fortuna di arrivare in arena 9 noi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi commentate e iscrivetevi al canale ciao con la domen- con il sabato royale noi ci vediamo al prossimo video con sabato royale ciao 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 ciao